Giorgio Rocca, nel 2015 Conad parlerà anche cinese, uno sbarco di prodotti non solo Liguri ma del marchio anche di Conad in Cina, è così? Sì, il 19 febbraio, che è la partenza dell'anno cinese, a Shanghai ci sarà l'apertura di 5 punti vendita che tratteranno i prodotti sapori d'intorni e una parte di prodotti Conad, tra i quali anche dei freschi e saranno gestiti da un socio cooperatore cinese e questo potrebbe essere il punto di partenza per entrare in un mercato fatto da 1 miliardo e 300 milioni di persone e dove in questi prodotti di sapori d'intorni chiaramente ci saranno anche dei prodotti Liguri, quindi in qualche modo la Liguria Conad a 52 anni dalla nascita entrano in in questo mercato enorme che è questo mercato cinese. Ma cosa significa? La crisi in Italia ha spaventato anche Conad, ha scappato in Cina oppure anche la Cina? No, no, sicuramente anche, nel senso che i consumi sono quelli che sono, noi comunque dal primo di gennaio probabilmente con le nuove aperture diventiamo il primo player italiano, non stiamo scappando in Cina, stiamo però cercando di sviluppare quell'italianità anche in Cina e essendo un mercato enorme, un mercato dove il presidio italiano e se fatto anche da Conad è ancora più interessante. Quindi ci saranno anche nuove aperture in Italia o nuove aperture in Liguria? Nuove aperture in Liguria, ci saranno tre nuove aperture nel territorio nel quale ho la responsabilità, ci saranno queste aperture cinesi, probabilmente l'Expo di Milano aiuterà ancora di più queste chance che secondo me Conad può avere non solo in Cina ma in tante altre parti del mondo.